Cari telespettatori di Rossigni TV siamo qui per presentarvi la nuova trasmissione che nei prossimi giorni andrà in onda sul canale 80 ma come ve la spieghiamo quella signora Pedoni? A me ma non sotto perché devo farla subretta ma devo stare tutta nuda? Faccio vedere tutto capito? Facciamo molto ascolto faccio vedere tutto tutta nuda. Ma che fa vedere? Ve lo faccio spiegare della signora Rosa come funziona la trasmissione? E' un gioco da fare tutti insieme ci sono delle pentole con dentro dei piatti di pesce e uno deve essere bravo a riuscire a portare il proprio piatto fino alla fine insomma. C'è una slot machine ci sono dei concorrenti che verranno presi tra il pubblico tra chi mangia il pesce azzurro. Pesce azzurro quiz show. Dal 12 aprile alle 19 tutti i martedì e giovedì Rossigni TV. Vi aspettiamo. Canale 80. Si vincono le patate. No non è vero si vincono le previ. Vi aspettiamo in allegria prima di cena dai. Ci sono le subrette. Venite a partecipare. dalle 19.